Il regno di Dio è già visibile nella Chiesa. La Chiesa esiste perché nel mondo vi sia spazio per Dio. Egli possa abitare in esso e così il mondo divenga il suo regno. Con Gesù Cristo il regno di Dio è già iniziato nel mondo. Laddove vengono amministrati i sacramenti può essere superato e trasformato alla radice, l'antico mondo del peccato e della morte. Inizia una nuova creazione. Il regno di Dio diviene visibile. Se però i cristiani non traducono in un agire autentico la vita nuova ricevuta in dono, i sacramenti rimangono segni vuoti. Non si può andare a fare la comunione e contemporaneamente rifiutare il pane agli altri. I sacramenti richiamano un amore che è pronto a uscire da sé e ad andare verso le periferie, non solo quelle geografiche ma anche quelle esistenziali, quelle del mistero del peccato, del dolore, dell'ingiustizia, quelle dell'ignoranza e dell'indifferenza religiosa, quelle del pensiero, quelle di ogni forma di miseria.